Grazie a tutti intanto per la presenza. Sono 15 anni dalla ratifica in Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Mi preme ringraziare ma soprattutto essere contenta della collaborazione tra il Ministero della Disabilità e il Ministero dell'Istruzione. Quindi ringrazio tantissimo il Ministro Valditara e tutto il suo staff. Grazie perché è importante collaborare a tutti i livelli istituzionali con il mondo delle associazioni e insieme possiamo fare, dico sempre, molto di più. Grazie alla presenza delle scuole, grazie a chi oggi testimonierà buone pratiche perché forse vi sarete accorti che non sempre la nostra voce è ascoltata, non sempre è capita e anche uno strumento così prezioso e importante come la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità non sempre è conosciuta. E a volte quando ne parliamo qualcuno pensa che si tratti di un manuale, di un riferimento ma non così tanto normativo mi viene da dire. A volte mi guardano con gli occhi strabuzzati immaginando che stiamo parlando di qualcosa, sì, di importante ma non di vincolante. Invece come sappiamo noi che siamo qui, anche i tanti studenti che sicuramente hanno avuto l'occasione a scuola di fare delle riflessioni, come sappiamo la Convenzione ONU è legge in Italia dal 2009 e io sono orgogliosa di questo ma il lavoro e la strada che dobbiamo compiere è ancora piuttosto lunga e impegnativa. Prima di tutto perché appunto spesso non siamo così valorizzati e così ascoltati sui temi sociali, sui temi che riguardano il mondo della disabilità. Ma mi piace pensare che proprio grazie ad ognuno di voi, grazie al lavoro che state facendo nel mondo associativo e quindi ringrazio le associazioni e tutti i membri anche istituzionali e gli enti che partecipano all'osservatorio sulla condizione di vita delle persone con disabilità e qui vicino a me c'è il coordinatore, il dottor Serafino Corti che poi prenderà la parola e ringrazio tutti gli enti, le associazioni e le scuole e gli istituti che partecipano all'osservatorio sull'istruzione. Ecco, ognuno di voi fa un lavoro molto prezioso ma dobbiamo valorizzarlo di più. Ecco, io mi sento che il mio compito, il nostro compito istituzionale è quello di sostenere soprattutto in quest'anno importante dai 15 anni dalla ratifica la valorizzazione del lavoro che viene svolto con tanto impegno soprattutto nelle scuole ma anche nel mondo del terzo settore per parlare di diritti delle persone con disabilità. Principi quali l'accessibilità universale, quali il progetto di vita che presto insomma con l'applicazione, la piena attuazione della legge delega sulla disabilità avrà un percorso ben definito e tutto quello che riguarda il diritto appunto alla piena partecipazione alla vita civile, sociale, politica di questo Paese deve trovare più spazio, deve avere una voce, io dico sempre anche unica che ne parlino le istituzioni, che ne parlino il mondo del terzo settore i temi che riguardano i diritti delle persone con disabilità all'accessibilità universale alla piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica sono fondamentali da sostenere da parte di tutti noi quindi ecco questa è la grande sfida per il futuro iniziare a parlare con un'unica voce e valorizzare il grande lavoro che già sul territorio voi tutti e tanti altri stanno portando avanti lascerei ora la parola a Giuseppina Esposito dell'associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica sì, ecco buongiorno onorevole ministro Locatelli ministro sottosegretario bene, un saluto cordiale a tutti quanti voi e con grande sentimento di gratitudine che esprimo a nome mio ma dell'associazione tutta AISLA e di tutta la comunità delle persone affette da SLA per il coinvolgimento per questa iniziativa la nostra testimonianza la nostra testimonianza di AISLA fa riferimento a un progetto che questo non è un gioco un progetto che ha coinvolto studenti di diverse scuole nella provincia di Asti che riguarda appunto le difficoltà del movimento delle persone con disabilità gli alunni, gli studenti che sono stati coinvolti sono diventati dei veri e propri ambasciatori per il superamento delle barriere architettoniche ma soprattutto hanno fatto proprio il principio che è importante garantire accessi equi indipendentemente dalle condizioni o dalle capacità fisiche oggi questo è un momento plurale la presenza delle scuole i ragazzi, le ragazze, tutti ci chiediamo, ci interrogiamo insieme sul percorso fatto su che cosa è stato fatto in questi 15 anni su quanto pezzo, quanto è grande il pezzo di strada fatto insieme e quanti passi sono stati compiuti nella direzione unanime a cui tutti noi tendiamo ed è singolare che noi parliamo di passi parliamo di movimento con la consapevolezza che noi persone con la SLA non ci possiamo muovere non possiamo camminare non possiamo correre perché siamo prigionieri e paralizzati eppure so per certo come tutti voi, come tutti gli altri che desideriamo adoperarci per costruire insieme un percorso per costruire nuove opportunità e lo diciamo con l'apertura massima sapendo che c'è bisogno sicuramente di nuove risposte di nuove soluzioni c'è bisogno di guardare il mondo con occhi nuovi o con occhi diversi bene, forse semplicemente continuare Ministro mi riferisco a un nostro incontro quando lei disse appunto che bisogna ribaltare il paradigma della disabilità beh, se proviamo a estendere questo cambiamento a tutti gli altri contesti forse insieme concretamente possiamo costruire una società nella quale le pari opportunità siano garantite non nonostante la disabilità ma grazie alla disabilità quindi grazie grazie a tutti grazie a lei grazie del suo intervento